Se parlo quando ho il piccolo in mano, il video finisce Ragazzi vi ricordo che se volete supportarmi potete andare all'interno dell'idem shop Scrivere codice creatore forto, così come vedete a schermo Accettate, da ora ogni acquisto che farete mi darà un piccolo supporto Grazie mille a tutti quelli che lo faranno Ok ragazzi siamo in lobby, oggi stiamo cercando di fare la sfida Sì, parlo quando ho il piccolo in mano, il video finisce Ora non conta perché siamo in lobby ovviamente ragazzi, ovviamente concedetemelo Vi ricordo ragazzi che sto provando a registrare questa sfida in live Insieme ai ragazzi che mi stanno guardando sul sito Viola Infatti ragazzi vi ricordo che ogni sera siamo in live sul sito Viola Intorno alle 8 o le 9 per giocare assieme a Fortnite e a tanti altri giochi Infatti di recente abbiamo portato anche tutta la serie di Last of Us Comunque basta che andate in descrizione nella sezione live streaming e iniziate a seguirmi Ok ragazzi, zitti Vabbè a parte che l'arma l'ho trovata perché io non sto parlando, scusatemi, qualche volta mi par… Regà, regà Oh, ma che, ma che, ma che, fratelli Ma che, ma stiamo scherzando Ecco qua, vantaggio Ma che, ma che, ma che, ma che Ma non ho capito Ma che era l'armata di 101, fratelli Armata di 101, fratelli Non ho capito, raga, ma che cavolo è successo Permesso? Infatti che sta un tizio qua Sì, 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 io lo aspetto, io lo aspetto, no Mamma mia, fratelli Come li ho prese, calmi tutti Calmi, devo stare attento Ah no, questo però è un fucile a pompa Strano, no, faccio così, dai Facciamoci le bende Mamma mia, raga, mamma mia Allora, l'arma che ho più carica Il fucile è a pompa Poi il resto sto messo male Aspettate Ok, se levo l'arma non mi switch al piccone Io devo capire quando switch al piccone Perché ovviamente non facendo una sfida simile Non ci ho mai fatto caso di quando Il mio personaggio automaticamente switchasse al piccone Devo stare attento, raga Ogni volta che faccio un movimento strano Mi conviene sempre stare, stare zitto Altrimenti potrebbe finire male Splash Ottimo Mi curo un po' Ok, sotto ci dovrebbe stare una cesta Non è vero Era un bot Ero convinto fosse un nemico Sono andato nel panico Ah, qua sta la cesta, ok Oh, ok Cesta Questo quasi quasi me la porto, raga Questo lo cambio Ok Io credo che farò meno tagli possibili In modo da farvi vedere Che ogni volta che prendo il piccone Effettivamente non sto parando Anche se spero che molte persone di voi ormai si fidino Se il boss qui Ottimo Non si è assolutamente accorto della mia presenza La cosa mi fa molto piacere Io vorrei cambiare mitragliette, ragazzi Perché i bot qui hanno delle mitragliette veramente molto, molto forti Mi farebbe piacere utilizzarle Ok Aspettate No, vabbè, sta la drum gun Faccio una cosa più intelligente A più alla drum gun Ok, calmi tutti però Che sentivo gente costruire Qualcuno c'è in zona, raga Qualcuno c'è Sta qualcuno in zona, raga Sta qualcuno sopra Ora cerco un attimo di salire E cercare di eliminarmelo Anzi, mi faccio però la pozza grande Sta qualcuno sotto, comunque Non mi fido di sta cosa C'è qualcuno sotto Infatti, infatti, infatti No No, no, no È partito, è partito Via, via, via Mica ho parlato col piccone in mano Non mi pare Giusto? Giusto? Ok, ora sto zitto Ora utilizzo un po' il piccone Prova a giocare così, dai Se qualcosa so che le pure stanno qui No, via, via, via Via, via Ok, raga, a posto Attenzione Oh Ma su bot? Cavolo Ma c'è una mira che fa paura No, raga, mi è arrivata una cicchinata, però Non posso utilizzare il piccone Perché parlo sicuramente nel panico Mentre sto fai dando Panico Ok 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 Dammi tutti i materiali Uh Facciamo così Così vado sul tranquillo Ed evito problemi Ok, per ora 6 kill Ci stiamo difendendo in maniera Comunque esemplare Almeno per ora Attenzione Ho sentito degli spari in questa zona Fu cita da caccia Ok, nemico lì Cosa? Cosa è stato? Non ho capito se sono stati Dei semplicissimi bot Cioè tipo Dei scagnossi O cosa? Facciamo che torno un attimo Ragazzi Alla torre dove ho fightato Mi servono le cure Che ho lasciato di quel tipo ora Mi pare che abbia Cioè mi pare che avesse possette Mi pare Che bello il rampino, raga Veramente bellissimo Ok Facciamo così E mi porto queste Dai Che bello Uh Tizio là, tizio là Ok Ho la scarra in mano Questo lo vedo scarso Non lo so Non si muove benissimo Potrei sbagliarmi Ma non credo Ottimo Ottimo Devo stare zitto Pulito Pulito Oh 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 No 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 Briganti, briganti Ciao Ok I briganti mi fanno paura Anche se sto pieno di armi Che volete da me Cioè per me c'ho troppa paura Di sti tipi Non ho capito se sono bot Briganti Sono briganti Sì Che hanno eliminato un nemico Sì sono briganti Che hanno eliminato un nemico Eh mi servono i materiali Sinceramente Quindi ok Vai prendiamoceli Ragazzi Abito di prendere il piccone Così non devo stare zitto Che materiali c'aveva però questo Vabbè non c'aveva niente Io in realtà sto messo abbastanza bene Ragazzi Vedo di materiali Io comunque se mi sparo un nemico E vedo che sto per perdere Parlo così mi risolverò il problema Un po' infame Però Comunque raga mi raccomando Anche voi sotto nei commenti Proponete sempre una sfida Che volete che io faccia E mi raccomando Se invece tra i commenti Leggete qualche sfida Che vi piace Che io possa magari portare Perché appunto vi interessa Mettete like Così poi la scelgo Ok per ora Ok Cesto Ok niente di che Perfetto Che ansia ogni volta Che prendo il piccone Veramente Io non vedo l'ora Di essere costretto A dover rompere un muro Con il piccone Oh 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 Che è? Ah Ok Briganti ma sta un tizio Mi ha visto? No Peccato Madonna Avevo paura di prendere il piccone Perché avevo paura Di sbagliare a parlare Bello fresco Ok raga Vai vai Vediamo che roba aveva sto tipo Mica ho parlato No Credo di no Ma tu che panico Stavo parlando col piccone Che panico Mi è venuto spontaneo Questo piccone È questo piccone Questo rampino Raga vi dà una mobility Che veramente fa paura Perché c'è una cometa? Perché sta scendendo una cometa Sulla mappa? Allora raga Per ora siamo in sette Io non vedo altri nemici La sta lo squalo Io ho sempre paura Di utilizzare il piccone Quando parlo Per ora non dovremmo avere problemi Ma giusto perché sono full E ho un set della Madonna Cioè raga Veramente sto messo benissimo Però qui ci potrebbe essere qualcuno C'è qualcuno? C'è qualcuno? Zitto? Zitti tutti? Sono morto mi sa? No si sta curando No No Ok Mi curo con questa raga Mi curo con la pozza grande Non fa niente Madò che panichello Mi sono preso Tre infarti No raga Se la sbaglio ora Veramente È veramente scandalo Veramente scandalo Cioè non posso sbagliarla ora Ve prego Ve prego Veramente Se la sbaglio ora Non lo so L'ho picconato L'ho picconato Che sfregio Durante questa sfida L'ho picconato Che sfregio Siamo in quattro Siamo in quattro Fredeli Siamo in quattro Fredeli L'avevo sentito Mentre Andava nel cespuglio Come 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 hai fatto Quando stanno su Su quelle strutture Su quel tipo di Di deltaplani Non riesco mai a colpirli Una kill me la riesco A prendere al volo Però devo stare attento A non farmi sgamare Anzi ma io Se sto fermo Peccato Peccato L'abbiamo iniziato a sparare Nello stesso momento Come Come prego Come ha fatto Come mi ha visto Qui stanno altre cure Ragamo Me le vado a prendere Erano le cure di quel tipo Se non sbaglio Esatto Ah una pozza piccola Mica avevo lasciato qualche cura Dietro Eh là sopra Ragà Ma non posso entrare in safe Ora la safe Secondo me se entro Mi squaglia Cavolo ragà Vorrei qualche cura Un po' più seria Potrei andare a pushare Quel tizio sopra Ma stando in quattro Appena mi distrago Potrebbero pusharmi Gli altri due E con tutta l'ansia E con tutte le cose Che devo gestire ora Non so se è il caso Vediamo Lui non se ne è accorto Anzi è stato colpito Eh mi sa che è andata male Fratelli Mi sa che è andata male Molto bravo Molto bravo Mi è piaciuta questa Non so quanto ti convenga Sinceramente Mamma mia Che fortuna Stava guardando me Non so come mi ha fatto Con state Guardava decisamente me E' morto E' morto E' morto E' morto Muore di safe Muore di safe Se lo sparo C'è guarda questo sotto Si sta rubando la kill Guardalo Guardalo in per terra 12 Madonna Ti prego dammi qualcosa di buono Ti supplico Ti supplico Ti supplico Una cosa veloce Oh mio dio Mi sta saltando qualcuno addosso E sono la mia impressione Grazie a tutti